Stia con noi, qui con noi, si rilassi d'ora in poi, leghi al collo il fassoletto poi faremo tutto noi Amici di Breaky Pop, oggi parliamo della bella e la bestia, anzi dei gadget più simpatici dedicati alla bella e la bestia E come non cominciare con questa stupenda riproduzione di Lumière Guardate che meraviglia, è veramente fatto preciso all'originale Materiale meraviglioso e si accende e si spegne da qui sotto in maniera molto semplice Questa è un'esclusiva di Euro Disney Parigi, quindi Disney Park di Parigi Però mi raccomando, prendetelo anche voi se vi piace, lo potete trovare senza problemi perché è veramente fantastico E se parliamo di Lumière, come non parlare anche di Mrs. Brick e di Chicco, eccoli qua Anche queste sono delle fedeli riproduzioni in porcellana, definite in ogni dettaglio Dei piccoli protagonisti della bella e la bestia, un'esclusiva giapponese ma anche questa facilmente reperibile Su ebay con un po' di fortuna e ovviamente non poteva mancare anche la versione Funko Dei nostri eroi a partire dal piccolo Lumière E poi Mrs. Brick con Chicco La collezione completa prevede anche Belle versione paesana e Tokings Io ho solo questi due ma penso di recuperare col tempo Quindi mi raccomando Funko Pop della bella e la bestia Ciao Ciao Ciao